Ciao a tutti per il cromo giornalista Come vi fa la vita oggi? Questo è il nostro Salone, abbiamo comprato casa Questo qua E lo mettiamo È il nostro canale I sassi volanti Youtube No, non è bene Siamo su porno Allora, il nostro canale di Youtube si chiama I sassi volanti Canale molto intelligente Vuoi dire qualcosa? È un canale molto intelligente, pieno di intelligenza E vi spendiamo molta Adesso mostriamo casa nostra Allora, non guardate i prezzi che abbiamo lasciati lì Perché sono una moda PC ultra ultima moda Poi dopo Il vaso, il vaso Questi vasi, guardate i vasi, guardate Guardate la bellezza dei vasi Poi, questo vaso E mo' si sboccia Adesso, tutti qua assieme Che concludiamo il video con cosa? Con il suo bozzetto Con tua mano Con la tua mano Io sono uno vero Franzini e fidanzato Che mano